In un periodo che era di smontarlo e le facci subito un mese. Insomma, dove si vuole ragazzi, dove si va, che si fa? No, si aspetta che Mirko si riferisce. Vieni, su, tira fuori i sette, andiamo. Ma io voglio sapere dove ci mettiamo per volare. Quante domande, quante domande. No, no! Cosa c'è sta? Cosa c'è sta? C'è già l'azio. Non pensare ad andare a fare il bagno. Cioè, onestamente. No, però io mi devo piazzare. Devi piazzare dove? Eh, mi devo piazzare, devo fare... Volevo portare anche il bagno. All'ombra, vuoi fare l'ombrellone, sai? Si, si, a cazzola ti va bene. No. Portare anche i barbe giù, si è piazzare. In casa portava più l'ombra, più l'ombrellone. Non l'ombra dell'ombra. Ecco lui. Ci può stare. E poi al pista ti può stare. Ti vedi, vai al pista. Non me l'abbiamo. Ti do una botta di fascetto. Adesso guarda. Ragazzi, hai fatto tutto il bagno. Vado. Tornata. Trasta ciò. Tornata dellaeteria. Tornata di controllo. L'ombra festa di ciò. E invece è legato aginicravere. Letommra che contratti Oh, yeah. Reven adesso. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti